Ciao, mi chiamo Lorenzo Contesi e oggi vi mostrerò un libro che mi è piaciuto di più. Si chiama Il barbiero di Sivilli e è stato scritto da Matteo e Francesco, che sono due musicisti leccesi. Parla di Conte d'Arma Viva e Rosina, che grazie al barbiero di Sivilli trionfò l'amore. Questo libro mi è piaciuto perché illustra delle figure e delle canzoni. Non ho letto tanti libri, però quello che mi è piaciuto di più è stato questo. E poi sono anche andato al teatro e ho visto l'opera. Grazie.